Penso che la fede sia fondamentale per questi personaggi, ma anche nella vita, nel senso che comunque la fede ha ovviamente a che vedere con quell'amore di cui parlavo prima. Soprattutto quando sei da solo, con i tuoi limiti, con i tuoi dolori, con le scelte da fare, con quelle scelte che soprattutto il personaggio di Giacomo deve fare a un certo punto del film, se hai fede e ti affidi quindi a qualcosa che è più grande di te, affidandoti contemporaneamente alle tue forze, naturalmente, sempre, per compiere quelle scelte, cioè voglio dire, c'è in questo film anche qualcosa che è completamente trascendentale. La fede è quella cosa che ti spinge a fare delle cose che non faresti mai, per proprio quattro in mezzo. Sto ragazzino lo buttano giù, ci rimane o gli piace riazzarsi? Se vince lui vinco pure io, l'hai capito questa cosa, sì o no? È qua che te devi vincere. Certe volte quando nasci nel posto sbagliato, c'è il rischio che te fanno diventare cattivo. Però se nasci buono alla fine, più di tanto noi ha fanno, rimane in mezzo. Grazie. Grazie. Grazie.